allora io sono in diretta aspetto che arriviate spero che si veda ok vedo tutto gli occhiali così riesco a leggervi ciao Peppe un po' che non ci vediamo spero stiate bene allora devo fare la diretta in camera da letto per dispiace ciao Roberta perché ho fatto un po' di casino questa settimana ho pitturato la sala perciò c'è un po' le stanze incasinate per forza devo farla in camera da letto dovete scusarmi chiedo scusa a Enrico ma è l'unica stanza dove posso stare ciao Francesca ciao perciò devo stare qui per forza mi dovete prendere dalla camera da letto stasera intanto ringrazio sempre Anna e Enrico per questa opportunità per poter stare un po' insieme ciao Anna ciao ciao Rosanna ciao Rosi ciao bella ciao ciao Angelin di Maggio bene bene io sto bene domani vado a Modena ciao Cinzia ciao potevo anche stare in cucina però ho acceso il cammino e pieno di gatti perché non lo stanno quindi ho solo 4 o 5 perciò non sarei riuscita a fare la diretta avresti visto solo dei gatti girare ciao Graziella perciò devo farla per forza in camera ho votato la sala l'ho pitturato ho fatto un po' di lavori ciao Cristina ah ok sì 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 sono a Bari a metà ottobre sono gli ultimi viaggi che faccio così lunghi perché sono un po' stanca di dire la verità viaggiare così lontano farò una volta all'anno alla Sicilia andrò a giugno e basta perché mi sposto solo qua vicino qua vicino nel senso che è un paio d'ore al massimo di macchina da poter fare i viaggi in giornata ciao Mariella ciao Cri ciao tra un po' ci vediamo sabato ci vediamo venerdì notte parto sì ottobre ho vado a Danzo poi vado a Bari e a fine mese in Sardegna ciao Raluca ciao Mara sì perché poi mi sposterò solo qua vicino sì Rosanna ci vediamo a giugno ciao Mary ciao Francesca se vuoi darmi contatto scusi quando di ottobre ma dove Francesca per Bari mi sembra il 13 e il 14 il venerdì e il sabato ciao Fabrizia ciao Giuseppina mi sembra il 13 e il 14 adesso non mi ricordo bene la data non ho qui l'agenda ciao Silvi e niente poi mi sposterò solo vicino adesso domani sono a Modena sì un po' buonasera Luciana ciao Mire ciao un bacione ciao Anna Maria ciao Gina ciao Angela allora allora uscirà breve il mio libro ciao Roberta ciao uscirà uscirà breve il mio libro è in lavorazione penso che a Bari non so se riuscirò a portarlo perché penso che esca la seconda settimana di ottobre da quello che mi hanno detto è sempre latina è sempre latina Francesca poi se non hai il numero mi contatti in privato te lo mando e non vengo Fabrizia a Roma vado ad Anzio l'1 e il 2 e oltretutto non riesco neanche a fare tutte le persone perché mi fermo solo una sera ciao Camilla ciao tesoro come stai? perché non ho nessuno a casa sì ho una mia amica che viene per i gatti ma mi viene una volta al giorno un po' di problemi e poi ti dico la verità sono gli ultimi viaggi che faccio lontani perché diventa molto pesante per me a casa ho sempre gente e devo dedicare anche le persone che vengono qua non riesco a fare tutto poi va a finire che faccio le cose male poi quest'anno ragazzi ho 60 anni perciò insomma comincio a sentire un po' no non è vero che sono informissima però ce li ho 60 anni sì Francesca contatta Tina ciao Laura allora cosa parliamo stasera? ditemi voi allora intanto ho messo ho messo buonasera Maurizio ciao Raffaella ho messo un post perché è l'8 di ottobre ci sarà questo convegno online organizzato da Manuela Pompas e forse anche da qualcun altro io dico Manuela Pompas perché sono in contatto con lei e poi è lei sempre l'organizzatrice ho messo anche il link per poter partecipare al convegno ci sarò io come relatrice il sabato 8 alle 3 e mezza dalle 3 e mezza alle 4 sì dalle 4 e 20 perché sono 50 minuti e niente partecipate ci sono altri medium ci sono due esperti adesso io non ricordo i nomi perché sinceramente ho aperto il link ma non me li ricordo comunque se schiacciate il link andate su www.karmanews.it trovate tutto tutto quello che potete fare per iscrivervi ciao Mariella ciao Irene e poi avrò un altro convegno che metterò poi fuori la locandina che sapete che ho detto che non partecipo più ai convegni a questo andrò di persona ma solo a fare la relazione perché lui è un mio grandissimo amico si chiama Michele il cognome non me lo ricordo ve lo scriverò come solito non mi ricordo niente è uno psicologo di Bologna una persona straordinaria grazie Angela non ce li ho però a Ponte Lago Scuro perciò andrò a fare la mia relazione e poi rientro a casa non faccio contatti perché l'ho detto che non avrei più partecipato ai convegni e non partecipo faccio solo questa relazione ma proprio perché lui è una persona straordinaria è molto fidata mi piace molto è una persona straordinaria e poi faccio quest'ora di relazione ma vado fisicamente poi comunque metterò la locandina appena ce l'ho brava Roberta Guandalini bravissima vedi che ho il mio braccio destro bravissima Michele Guandalini bravissimo bravissima perciò ciao Roberta ciao Elisabetta perciò poi ci sarà anche questo convegno il 23 ottobre una domenica mariella scusi cortesia il link si allora è www.karmanews.it ciao Eugenia ciao Anna allora aiutatemi con le domande così parliamo un po' cerchiamo di parlare sempre del solito argomento io ho fatto veramente tantissimi contatti in questo periodo e devo dire che Cinzia aspetta ho fatto una registrazione ambientale l'ho seduta Cinzia aspetta che vado a leggere ho fatto una registrazione ambientale l'ho seduta sulla porta di casa del mio Andrea ho sentito sussurrare mamma e subito dopo mamma ma proprio con la sua voce bene Cinzia sono contenta allora vado avanti a Beppe dice volevo scusi volevo poi parlarci dei nostri animali sulla loro situazione quando lasciano il corpo poco tempo fa mi è venuto in sogno il mio cane trapassato da poco e dall'insieme mio padre si Beppe vanno dove andiamo noi si comportano nello stesso modo allora brava Angela www.karmanews.it karma news.it allora karma news è scritto tutto attaccato adesso non so se così riesce ad entrare allo stesso io l'ho scritto tutto attaccato con la n di news maiuscola ciao Valeria ciao Maria Luisa ciao Carla e vanno dove andiamo noi si comportano nello stesso modo addirittura io aspetta che leggo intanto no ma figurati Angela anzi no te lo dico perché siccome io sono tecnologica a zero ho provato in molti modi e poi mi sono entrata in quel modo lì ciao Daniela ciao ciao Donata ciao 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 Adriana ciao e sono delle anime comunque molto evolute gli animali sono delle anime evolutissime e vanno nello stesso posto dove andiamo noi si fanno sentire e vedere nello stesso modo io dico la verità mi è capitato a volte di cercare degli animali che si erano persi i proprietari volevano sapere se ne erano andati o se ne erano o se erano ancora vivi e a me non parlano vi dico la verità a me un animale non mi ha mai parlato ho sempre visto animale oppure se parlava c'era qualcuno che parlava poi non so c'è gente che dice che riesce a sentirli riesce a comunicare con loro io non ci sono mai riuscita cioè non ci ho neanche mai provato a dire la verità però non mi hanno mai parlato Mariella dice il convegno sarà il 23 di ottobre al link appena 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 scritto sì perciò sì stavo dicendo proprio per gli animali perciò io a me non hanno mai parlato li ho sempre visti addirittura vengono a trovarci perché a me è capitato diverse volte di vederli sul letto di vederli in casa di vedere i miei gatti che giocano con gli altri gatti che se ne sono andati perciò sono anime come noi cioè meglio di noi molto meglio di noi a dire la verità Gina mi dice volevo chiedere sentite anche voi che quando parla Susi si trasforma la sua voce come la voce di un uomo mi fai preoccupare Gina io odoro i trans non è che ce l'ho con loro però sai però può succedere che qualcuno trasformi la voce se succede in diretta meglio mi fa piacere perché vuol dire che qualcuno è con noi e ci si fa sentire buonasera Massimo Laura dice ciao Susi a me piacerebbe che parlasse un po' anche delle anime dei bambini abortiti per scelta possiamo contattarli riusciranno mai a perdonarsi assolutamente sì Laura allora non hanno nulla di cui perdonare i bambini abortiti che sia per volontà o per involontari ecco per involontari hanno comunque un percorso anche loro la cosa che mi hanno chiesto è di dargli un nome questo sì però non hanno nulla di cui perdonare perché credetemi il destino di nostro è scritto perciò quando arriviamo qui se tu hai deciso con quest'anima che deve nascere invece non la fai nascere per tua volontà o involontariamente per un aborto spontaneo cioè sono comunque anime viventi e si fanno vedere si fanno sentire ma mai sentitevi in colpa loro ci insegnano a non sentirci in colpa è il sentimento più brutto per i nostri canali i sensi di colpa sono sono dei sentimenti che ci chiudono che ci chiudono tanto che ci chiudono tanto i canali che abbiamo per poter comunicare con loro e per vedere ciao Enrico ciao amore mio come stai e e perciò dategli un nome a me l'unica cosa che hanno chiesto è questa di dargli un nome hanno bisogno anche loro perché sono comunque delle anime viventi che vivano un mese nel ventre della madre che vivano sei mesi o che nascano e se ne vadano subito assolutamente sì assolutamente sono anime come 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 chi vive più tempo ognuno ha il suo percorso di conseguenza viene comunque vissuto Emigliana dice buonasera vorrei sapere cosa mi serve sognare sempre i miei carissimi genitori zii e altri che ho conosciuto e non so se poi non comprendo il significato mi lasciano turbata a volte faccio confusione tra le realtà e l'oltre dei ricordi guarda Emigliana secondo me ti devi approcciare in un modo diverso scusami se te lo dico io sono una persona molto schietta quando dici vorrei sapere a cosa mi serve sognare sempre i miei carissimi genitori serve come perché quando li sogni ti vengono a trovare perciò è un contatto con loro non non c'entra niente quello che ci dicono se ci danno dei messaggi se li capiamo se non li capiamo ma ringraziamo che li sogniamo c'è gente che ho dei genitori anche che vogliono sognare i propri figli e il dolore li chiude talmente tanto che non riescono a sentirli o vederli ma ringraziamo il fatto che li sogniamo è sbagliato dire a cosa mi serve sognare cioè è proprio una cosa sbagliata forse ti sei espressa male però guarda accetta questi sogni ringraziali perché sono incontri quando ci vengono in sogno che sia una persona anche che non conosciamo è comunque sempre da ringraziare sempre perché la cosa che ci fanno che ci insegnano Gina dice Simone è scappata in camera e si vede che era il suo papà che voleva salutarla Rosanna dice loro sono i nostri angeli mio piccolo è sempre con me la sua sorellina certo che sì grazie Enrico grazie ti ringrazio sono stanchissima si vede che la stanchezza mi fa bene ho fatto l'imbianchino Enrico infatti l'ho detto all'inizio sono in camera da letto perché non c'ho una camera libera c'è tutto incasinato devo farla per forza in questa camera perché è l'unica camera libera che ho Laura dice grazie mille dolcissimo Susi il nome è maschile femminile indifferente guarda come ti senti perché se non sai il sesso sta sicuro che il tuo cuore te lo dice perciò metti il nome che vuoi Mariella dice ci sono molte energie stasera guardate sopra la testa di Susi sì quando faccio le dirette ce ne sono sempre veramente tante sapete che ho scritto il libro si chiama la voce del cuore e ho raccolto i messaggi dei ragazzi che hanno dato ai genitori ho voluto dedicare un libro solo ai genitori perché mi sembra anche giusto poter per far capire o sentire o far vedere come ci raggiungono e cosa ci dicono anche ad altri no perché ce ne sono tanti purtroppo che stanno soffrendo per la ripartita dei propri figli e ho fatto una fatica a scriverlo si chiama la voce del cuore forse l'ho già detto sentire parlare o farmi scrivere i messaggi che una mamma e un papà ricevono o descrivere il proprio figlio la propria figlia da un genitore è una cosa che mi ha toccato veramente tanto il cuore ho pianto tanto scrivere quel libro lì però penso che faccia molto bene che sia molto utile proprio per 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 sì Mary ma guarda che lo puoi arrivare a sognare bisogna imparare proprio a a a lasciare andare queste lasciare andare è una cosa stupida da dire perché il dolore non si lascia andare però trasformarlo cercare di di accettare questa cosa perché per forza dobbiamo vivere perciò dobbiamo capire il significato della morte dobbiamo capirlo e quando e quando e quando ci non lo so Emigliana Emigliana dice ho detto che mi lasciano tristezza e turbamento forse un debito caro ma no ma io non credo sai forse devi trasformare il tuo pensiero questo è il mio parere poi sai io non sono un maestro non sono niente io ti parlo per la mia esperienza però credimi mi ringrazia sempre quando ti arrivano in sogno perché è una cosa bellissima quando arrivano in sogno su qualsiasi cosa che ti possano dire a volte i sogni non sono piacevoli perché c'è qualcosa dentro di noi che non ci fa star bene in quel momento io io me fortunatamente non mi capita mai di essere triste mi capita di essere emozionata mi capita di avere il magone se penso a qualcuno cui voglio bene che dall'altra parte perché sono emozioni comunque che abbiamo tutti e ce le ho anch'io io sono umana anche se so cos'è la morte anche se ho capito anche se l'accetto anche se non mi fa non mi crea il dolore che può creare un'altra persona però quando mi capitava di sognare o mio papà o qualcun altro che era triste era perché lo ero io perché il mio il mio atteggiamento interiore rispecchiava poi veniva rispecchiato nel sogno però loro non lo sono mai probabilmente questa cosa perché è un periodo un periodo per te o difficile o pesante questo è il mio parere Ada dice la mia mamma la sogno tutte le sere bene meno male sono contenta Beppe dice ragione su si ringraziate sempre quando vengono in sogno un gran privilegio riceve visite all'oltre ringraziate le persone si è vero bisogna proprio sempre ringraziare quando arrivano in sogno bisogna ringraziarli sempre poi la sensazione che ci rimane siamo noi che dobbiamo un po' gestirla e stavo dicendo prima che è stato bellissimo scrivere questo libro ma è stato molto molto emozionante e avevo la stanza e l'ho scritto sul libro quando arrivava un ragazzo mentre scriveva la sua storia e si presentava in un certo modo o faceva qualcosa l'ho scritto perché è stato bello l'ho proprio scritto con loro c'era un casino in camera mia che dei ciocchi da matti c'era di tutto però è stato molto piacevole perché l'ho scritto proprio insieme a loro Anna dice nella disperazione voglio solo dormire con la speranza di poterci parlare io con mio figlio guarda Anna cerca di trasformare questa disperazione sai che l'unica l'unico modo per poterlo sentire e per poter capire anche i messaggi che ti dà è proprio cercare di trasformare lo so che non è facile per un genitore ma come non lo è per un figlio per il proprio genitore cioè non c'è differenza è più pesante per alcune altre situazioni la perdita di un figlio ma il dolore è il dolore ma guarda cercare di trasformarlo sai perché ti dà aiuto perché lo puoi sentire perché lo puoi hai modo di sentirlo quando lui si presenta quando lui ti dice qualcosa anche se non si capiscono le parole ma la presenza si sente tantissimo Anna Maria dice ma i tuoi gattini te l'hanno permesso con fatica Anna perché ogni tanto Anna Morgana mi saltava sul computer mi saltava tutto già io non sono tecnologica già non sono brava col computer ho dovuto riscrivere diverse volte perché mi andavano su e saltavano fuori delle parole assurde grazie a te Laura Cristina dice mi è mancata la mia mamma voglio venire da te mi chiami Cristina e ci vediamo Margherita la mia mamma mi chiami 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 di materiale mi chiami mi chiami mi chiami mi chiami in famiglia per me sono la mia famiglia la mia famiglia arriva da là perciò mi dà molto fastidio questa cosa mi fa star male mi fa star male perché dico non c'è rispetto neanche per una cosa così pura così così bella cioè prendere in giro le persone per me è la cosa più sbagliata che ci possa essere con questo penso di essermi spiegata bene Cristina dice ma i figli non nati continuano a crescere sì Cristina mi è capitato a volte di vederli più grandi è capitato di vedere a volte dei tratti proprio del viso è capitato però dicono sempre che sono bambini che non sono mai nati Beppe dice Susi sei una persona magnifica e non smetterò grazie no sono molto sincera sono sincera ho fatto tanta fatica per poter portare qualcosa di cui ero sicura di parlare io finché non sono stata sicura e credimi ci ho messo tanti anni ci ho messo tanti anni perché io da sempre faccio questo però diciamo che sono stata conosciuta in tarda età perché io volevo essere sicura di quello che dicevo io prima di parlare di prendere per il culo le persone scusate se dico prendere per il culo ci ho pensato molto bene ho voluto essere sicura di quello che sentivo avere tante prove su me stessa e sono proprio messa alla prova sono onesta non sono diversa da tanti o sono migliore sono penso di essere molto onesta e credo che loro dall'assù diciamo dall'assù ma ce li abbiamo a fianco che meritano meritino questo rispetto deve essere per tutti perché sono anime straordinarie vivono con noi siamo a contatto sempre con loro di conseguenza il rispetto è la prima cosa che gli dobbiamo l'amore e il rispetto come loro hanno nei nostri confronti Cinzia dice buonasera Susi io spesso quando medito la notte incontri con essere di luce sento tanto amore e consolazione così come quando guarda la mia cagnolina negli occhi bellissimo Cinzia bello ciao Rita ciao ciao Emiliana dice sì sono grata infinitamente a Dio ma sono triste perché li amo ancora disperatamente e non riesco a comunicare con loro come vorrei anche perché vorrei aiutare gli altri Emiliana cioè bisogna aiutare prima se stessi prima di arrivare al punto di aiutare gli altri cioè il fatto che tu li sogni è già un regalo che ti viene fatto molto grande non è importante aiutare gli altri cioè aiutare gli altri sei scelta da loro non è una cosa che scegli tu ma il fatto di poter avere la loro presenza tua per te personalmente ti cambia la vita ed è questa la cosa importante gli altri li puoi aiutare in qualsiasi modo io aiuto gli animali a me è capitato di aiutare tante persone a livello pratico senza dover fare un contatto cioè io faccio questo tutto il giorno e questo è un aiuto per l'amor di Dio però ci si può aiutare qualcun altro anche in altri modi non è detto che uno debba aiutare le persone solo comunicando con i defunti cioè la prima cosa da fare è cercare di sentirli per se stessi per stare meglio per capire com'è realmente questo collegamento che abbiamo con loro cioè questa è la cosa importante cioè io quando io quando do dei consigli ripeto per il poco che so io e per la mia esperienza quando do dei consigli alle persone che vengono da me gliele do per loro non perché vadano a fare i medium in giro gliele do per loro per dire guarda che se ascolti questo ascolti il silenzio se riesci a stare un po' più tranquilla un po' più serena se capisci che comunque sono decisioni nostre tutto quello che accade in vita è perché siamo noi a deciderlo tutti questi consigli che sono pratici sono semplici sono a volte difficili da mettere in pratica ma si possono fare tranquillamente cioè è una cosa che riguarda noi qualcosa che abbiamo dentro noi ma per stare bene noi stessi e già lì è un grande aiuto già il fatto di aiutare noi stessi noi portiamo luce perché passa la rabbia passa la tristezza passa la disperazione si sente il dolore ma sentire il dolore e capire perché abbiamo questo dolore o sentire la disperazione è una cosa molto diversa perciò il fatto che aiutiamo noi stessi prima gli altri li puoi aiutare in qualche modo adotta qualche animale dai qualcosa a qualche persona che non ha il lavoro che ha bisogno di aiuto gli fai una spesa cioè questo io lo faccio questo io a parte gli animali che aiuto ma aiuto anche le persone in un altro modo se posso e credimi quando fai queste cose tutto tutto arriva pensate che voglio raccontarvi una cosa che mi è successa settimana scorsa ho letto un post su facebook che io non do a tutti perché ci sono delle associazioni di cui non mi fido e so benissimo che i soldi se li tengono in tasca però questa ragazza mi ha fatto tenerezza perché ha questi gatti e diceva che non aveva più soldi per dargli da mangiare io sulla post e pay avevo 46 euro gli ho mandato 40 euro non lo dico per farmi pubblicità lo dico per farvi capire cosa mi è successo dopo e l'ho fatto senza problemi ho detto quei 43 euro glieli do perché amo gli animali poi mi ha fatto tenerezza questa ragazza e gliele ho mandati dopo un'ora un'ora e mezza una mia amica mi ha messaggiato mi ha detto Susi mandami la tua post e pay perché voglio fare un'offerta ai tuoi gatti gli ho detto ma perché perché non l'aveva mai fatto non era mai successo e mi ha mandato un'offerta sulla post e pay perciò io quello che ho dato senza pensare che io rimanevo senza soldi mi è stato dato indietro subito ve lo racconto per questo perciò è questo su questo che noi dobbiamo aiutarci perciò l'aiuto si può dare in qualsiasi modo non solo facendo i medium perché guarda che è difficoltoso sai non è una cosa così semplice ragazze cioè non è non è tu dedichi tutto il tempo agli altri io non vedo quasi mai mio figlio mio nipote mia nuora perché sono sempre impegnata con gli altri vuol dire il sacrificio non vuol dire avere successo il fatto che io sia andata in televisione credetemi perché mi è stato detto da loro e mi è stato dato io ho rifiutato di andare in televisione in questo periodo perché io non mi piace non è una cosa che mi piaccia è qualcosa che deve arrivare per un messaggio perché la televisione ha una voce immensa no? probabilmente mi hanno detto di farlo per quel motivo lì ma non è che non vuol dire essere famosi eh una medium non è famosa una medium fa dei grandi sacrifici e basta cioè poi lo fai con il cuore lo fai serenamente stai bene perché comunque dai un sorriso a qualcun altro ma non è mica tutto questo lavoro da 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 successo mi sembra che sia stato trasformato un po' tutto perché è un periodo che queste cose le sento tanto le persone si aiutano anche in un altro modo non solo con quello che faccio io io aiuto tanti animali ho fatto 35 anni nelle case di riposo e l'ho fatto con amore anche se era faticoso vi aiutavo le persone perché oltre a fare il lavoro avevo anche la parola le ho portate a casa mia a mangiare a Natale delle persone che non avevano famiglia questo è aiuto si può fare in qualsiasi modo l'aiuto allora aspetta che vado a leggere ciao Eleonora caro Susi mio papà è venuto a mancare il 13 agosto e lo sogno tutte le sere e cerca di rispondere alla mia domanda bellissimo Angela dice il sogno per me è un dono ci vengono a trovare però ci consiglio di assicurarci assolutamente sì ciao Fernando ciao ciao facciamo gli auguri a Fernando che ha fatto gli anni questa settimana è giovanissimo non diciamo però l'età ma è giovanissimo ciao Ferni allora aspetta che vado avanti perché qui sono imbranata mary dice ma i ragazzi che sono arrivati sono arrivati a casa quando hai trascritto i loro messaggi no non sono arrivati a casa mary sono arrivati dal momento in cui scrivevo la loro storia arrivava il ragazzo che nominavo di cui scrivevo la storia però facevano delle cose che le ho scritte sul libro non ve le anticipo perché altrimenti è inutile Rebecca dice io sogno spesso il mio papà giovane sorridente sempre bellissimo e io sono felicissima quando capita lo sento vicino grazie Susi bellissimo che lo sogni sono molto contenta anche Giuseppina dice che mentre parlo la mia voce cambia diventa un tono maschile o è mio papà o è il marito di Gina non lo so non lo so chi è Caterina dice dopo tanto tempo ho sognato mio figlio una cosa molto strana sul pavimento c'era una cavalletta cosa significa non lo so cosa significa però anche gli insetti non sono cose brutte cioè non ti so dire il significato del sogno io non è che mi intendo di sogni io ho delle sensazioni quando sogno ma dare proprio il significato non lo so io quando sogno qualcuno di loro e pensate sogno sempre sogno molto spesso il papà di mio figlio e lui mi avvisa sempre di qualcosa faccio sempre dei sogni straordinari quando mi arriva il sogno io vado sempre dove è lui non è lui che arriva da me sono io che vado da lui è bellissima questa cosa anche perché è la persona che ho amato tantissimo il papà di mio figlio ciao Adele ciao tesoro dice perdere un figlio è un dolore incredibile lo so Minerva lo so però allora importante la cosa che ci aiuta chi la cosa che ci aiuta è è pensare anche se sembra una cosa impossibile perché noi dice per noi noi diciamo che per noi ci ci cerchiamo il bene no quando noi siamo di là che noi siamo di là siamo a casa nostra il vero mondo nostro è dall'altra parte quando siamo là noi decidiamo quello che dobbiamo fare sulla terra e eh decidiamo di sopportare delle prove delle prove a volte molto pesanti perché noi dobbiamo evolverci noi dobbiamo imparare noi dobbiamo crescere perciò venendo qua eh anche se dimentichiamo noi sappiamo già che abbiamo dei compiti e delle prove da superare perciò tutto quello che abbiamo deciso quello che ci anzitutto quello che ci succede sulla terra a parte alcune decisioni di cui abbiamo libera scelta ma non sicuramente sulla morte il giorno predestinato è quello non ci possiamo fare niente è una cosa che noi abbiamo scelto insieme al nostro caro chi se ne va per prima di noi perciò il pensiero che comunque questa vita è velocissima non è lunga è un è un battito d'ali è proprio velocissima è che comunque possiamo ritrovarli ci ritroveremo faremo dei percorsi insieme dobbiamo solo superare questa mancanza fisica perché poi alla fine è una mancanza fisica noi abbiamo anche l'anima se noi mantenessimo la visione dell'anima e dessimo l'importanza che la nostra anima ha noi riusciremo a sentirli e comunque continuiamo a vivere con loro attraverso l'anima non saranno più corpo corpo anima anima vivere insieme e soprattutto la maggioranza ce l'ha sempre il corpo quando siamo terreni quando siamo materiali se noi vivessimo anima e con la loro anima che è l'unica cosa che a loro è rimasta il corpo l'hanno lasciato sotto terra l'hanno lasciato sulla terra noi continueremo a vivere nello stesso modo e nello stesso sistema io non so se riesco a spiegarmi bene non è facile questo discorso anche perché non voglio dire delle cose che facciano pensare che dobbiamo andare di là prima di quello che ci è stato scritto no io non assolutamente non do questi messaggi perché noi il nostro percorso ce lo facciamo con le nostre sofferenze e quando ora ci andremo però è così scegliamo noi Emiliana dice chi sogna tanti defunti cos'è da dove viene questa capacità Emiliana non è una capacità quando sogniamo i defunti è perché loro ci arrivano in sogno e ci vengono a trovare sono degli incontri che loro decidono di farci non è merito nostro Graziella dice perché non riesci a capire che non puoi cambiare le decisioni prese prima di nascere accettare la volontà di Dio perché non è la volontà di Dio Graziella è la nostra volontà è una nostra decisione siamo noi che decidiamo con la nostra famiglia quello che dobbiamo fare Dio non c'entra niente noi dobbiamo prenderci le responsabilità di quello che ci succede so che a un genitore sembra impossibile di poter aver deciso di lasciare andare il proprio figlio prima di noi lo so che a livello terreno e materiale è una cosa incredibile e inaccettabile ma in realtà è così è così ma non è una cosa brutta è un percorso che dobbiamo fare è come se tu avessi una bellissima casa stai bene con la tua famiglia e tutto e poi decidi di fare una vacanza di un anno o due mettiamo il tempo di un anno o due in questa vacanza ti trovi male perché poi devi attraversare semmai un mare e soffri di mal di mare con la nave poi arrivi là non riesci a trovare la casa non riesci a trovare un posto che ti piaccia la vacanza è questa vita cioè non so se se ho fatto un esempio chiaro la nostra bella casa è quella dall'altra parte e qui abbiamo cose poi ti ritrovi in questa vacanza che sei da solo perché hai lasciato a casa qualcuno cioè è così è difficile lo capisco perfettamente e sembri ma Dio non c'entra niente non diamo la colpa a Dio non c'entra niente siamo noi che decidiamo il nostro percorso insieme probabilmente a qualcun altro perché io non so esattamente tutto quello che c'è dall'altra parte ma non lo voglio neanche sapere lo saprò quando andrò e poi tornerò e me ne dimenticherò è è una ruota che gira però siamo noi che decidiamo quello che dobbiamo fare perché noi dobbiamo imparare su questa terra l'inferno è questa terra l'inferno di là non ce n'è l'inferno ce l'abbiamo noi e loro hanno parlato della vita terrena della dimensione più bassa della dimensione più bassa della dimensione più bassa Mary dice speculare sulla sofferenza di una madre si è molto squallido Mary è molto squallido è molto squallido è molto squallido Patrizia dice buonasera Susi purtroppo non riesco a sognare mio figlio mi manca tantissimo vederlo almeno in sogno il suo viso il suo sorriso perché non mi viene in sogno non so cosa darei poterlo allargare abbracciarlo strettamente te l'ho appena detto Patrizia quando il dolore riesce a trasformarsi quando metabolizziamo il dolore i canali si aprono la sofferenza ci chiude tantissimo comincia pian pianino parla cerca di fare le cose che facevi quando eri in vita a volte basta solo bere un caffè la mattina basta mettergli togliere se buttava l'asciugamano non so perché mi viene questa cosa può essere che è una cosa che faceva buttava gli asciugamani per terra tirargli sulle asciugamani capito c'è qualsiasi cosa che ti possa avvicinare a questo contatto che per noi è strano per noi è strano perché siamo abituati alla materialità mariella dice la chiamerei missione d'amore in dio è bello è bella questa frase mi piace carla dice grazie per queste parole mi fa piacere ascoltarle grazie a voi ragazze cristina dice grazie il mio sarà un ragazzo e non lo so tesoro non ne ho idea non lo so può essere se tu senti che è un maschio sicuramente mara dice graziella non so se è la volontà di dio non so un belluna no non è la volontà di dio mara l'ho appena detto non è la volontà di dio e anche reagire a volte con questo col nervoso con la rabbia dare sempre la colpa agli altri io lo dico sempre grazie carlita carlita l'ho conosciuta è straordinaria sono due genitori meravigliosi sono molto contenta di avervi conosciuto sia te che non mi ricordi il nome di tuo marito mi ricordi il tuo perché è un po' strano però sono molto contenta di avervi conosciuto siete due persone straordinarie e cosa stavo dicendo che non mi ricordo più che ho perso il filo non mi ricordo più fatemi venire in mente cosa stavo dicendo perché non me lo ricordo aspetta che vado a leggere indietro l'ho detto con Cristina che se senti che è un maschio sicuramente è un maschio ah ecco stavo dicendo che reagire anche sempre con della rabbia nei confronti di qualcosa che ci succede o dare la colpa a tutto quello che ci crea dolore, non è mica giusto perché poi alla fine la rabbia a cosa serve? è una cosa che faccio fatica a spiegare questa qua perché capisco perché anche io guardate a vent'anni ero arrabbiatissima con la vita non volevo stare qua ero arrabbiata in un modo non reagivo malissimo alle offese alle umiliazioni a quando vedevo qualcosa di ingiusto io mi picchiavo perciò figurate voi che testa potevo avere mi hanno guidato mi hanno aiutato a reagire in un modo diverso non c'è da arrabbiarsi non c'è da dare la colpa a nessuno ho imparato a prendermi le mie responsabilità ho imparato a dire prima dicevo mi hanno fatto del male mi hanno fatto questo mi ha fatto l'altro ho imparato a dire mi sono lasciata fare perciò a prendermi le mie responsabilità su qualsiasi cosa e credetemi si vive molto meglio si vive molto meglio perché intanto non permettiamo agli altri di farci del male seconda cosa seconda cosa ci prendiamo anche le responsabilità di dove sbagliamo no? non diamo la colpa sempre agli altri Mary dice sale è fermo per piacere è di ansio quel sale sale mio gattone nero Mary dice in questo momento c'è qualcuno con te nel mondo spirituale Mary non faccio contatti in diretta mi dispiace l'ho detto già tante volte non mi va Mara mantieni questa tua paresse dura oggi ma non è purezza è verità è il capire come funziona con l'aiuto loro cioè è solo quello ciao Sabrina allora Anna Mattioli dice lo so che mio figlio è nell'oltre di prove in un anno me ne mandate tante ma non mi bastano mai oppure disturbarlo no allora non lo disturbi assolutamente perché loro cercano il collegamento con noi loro hanno bisogno di comunicare con noi perché noi abbiamo bisogno di loro e poi un'altra cosa che volevo volevo dire che veramente a me non lo so mi si rilizzano i capelli in testa a volte dico anche i peli sulle gambe perché non me li faccio mai quando dicono spesso sento leggo vedo poco facebook ma le volte che leggo mandiamo qualcuno in alto preghiamo perché così raggiunge dove deve raggiungere a volte rimangono sulla terra perché devono scontare qualcosa perché devono fare qualcosa sono assurdità noi siamo solo esseri umani non abbiamo il potere di mandare nessuno dall'altra parte l'anima quando lascia il corpo va subito dall'altra parte l'anima quando deve lasciare il corpo è già pronta e lo sa già e vi dico che ho avuto mille prove perché quando io lavoravo alla casa di riposo quando lavoravo all'ospice sapete quante persone che se ne andavano nel giro di due tre ore ma è capitato non solo nelle case di riposo è capitato anche ad altre persone che me l'hanno raccontato che vedono i loro cari perché vedono i loro cari perché i loro cari i loro cari e le persone che sono dall'altra parte e le persone che sono dall'altra parte li vengono a prendere e li accompagnano noi non siamo niente siamo semplicemente delle pedine in mano ad un mondo ad un universo molto più grande perciò questa presunzione di dire preghiamo mandiamoli in alto e non li tratteniamo qui perché a piangere li tratteniamo e li facciamo soffrire no loro la nostra sofferenza non la sentono loro la condividono con noi che è diverso ma non posso non sentono la sofferenza la sofferenza se l'abbiamo sulla terra quando siamo di là abbiamo una sensazione di pace che niente ci turba io l'ho provata ci sono andata l'ho provata e lo so benissimo lo dico perché lo so per certo l'ho sentita questa cosa ed è una qualcosa di incredibile perciò non bisogna andare di là per forza perché loro ci insegnano che questa vita è da apprezzare e io ho imparato ad apprezzare questa vita ad amarla a divertirmi a stare bene nonostante tutte le difficoltà che ho sono prove che devo fare e mi piace questa vita l'amo quando sarà il momento ci andrò per ora lascio loro e cerco di stare bene con loro di continuare a convivere anche se qualcuno non li vede si convive lo stesso con loro però questa presunzione di dire li tratteniamo e li mandiamo e preghiamo che così vanno di là è assurda scusate se mi sono scaldata ma mi gira un po' ma questa cosa qui mi da molto molto mi irrita perché non è vero siamo solo è presunzione è un ego che non dobbiamo avere allora su sette quasi vedete che vado a leggere Mariella dice ti accorgi della loro comunicazione e presenza nelle nostre vite quando provi un senso di pace pacatezza nell'anima e nel cuore sì anche con tanti segnali Mariella con tanti segni che arrivano qualsiasi cosa ci porta per me l'altro giorno l'avevo l'ho messo su mi è nato un girasole in un giorno a me mi era mai successa una cosa così poi mi è arrivata una notizia dopo perciò ho capito il perché di questo girasole ma è una cosa bellissima adesso l'ho preso perché è piovuto si piegava e lo tengo me lo tengo è un dono del cielo è un regalo più bello che mi sia stato fatto è un regalo meraviglioso questo allora vado a leggere ancora Simona ciao Susi mi dispiace ma non riesco ad ascoltare perché la tua voce cambia continuamente in una voce metallica maschile mi impressiona come mai succede questo c'è una spiegazione e sarà qualcuno che parla con noi Simona non ti deve impaurire proprio te la donna che sei te ti deve impaurire vuol dire che c'è qualcuno che si mette in mezzo benissimo vuol dire che non siamo soli non siamo mai soli Adriana dice Susi ho sognato ultimamente due volte mio padre una volta lo vedevo che entrava in cucina subito dopo mia zia e mia nonna non mi diceva niente andava nel lavello della cucina e si metteva a scavare nel ghiaccio che si era creato lo chiamava lo chiamava ma non mi rispondeva ma io non li so i significati dei sogni tu devi sentire un po' la sensazione che hai e capire cosa voleva dirti il tuo stato d'animo se è successo qualcosa io non te lo so dare la spiegazione ciao Rita non comprendo perché dovrei scegliere il dolore da una vita perché devo dovrei costruirmi allora direi anche basta ma guarda Mara l'ho spiegato penso nel modo più semplice possibile poi continuare lo ripeto da sempre continuare a lamentarsi di quello che subiamo ne subiremo sempre di più proviamo un po' essere grati anche per questa vita bisogna essere grati per avere una vita io sono grata anche della sofferenza perché io ho imparato tramite la sofferenza se io non avesse avuto tutte le sofferenze che ho avuto non avrei imparato un accidente di niente perché è attraverso la sofferenza che impariamo se abbiamo tutto facile impariamo niente e non mi lamento neanche più anzi grazie mi casco un mattone su un piede io dico grazie mi sembrerà strano ma sì perché in quel momento vuol dire che mi stanno dicendo qualcosa vuol dire che mi fermano a non fare qualcosa che mi può creare più disagio sempre ringraziare se li abbiamo sempre accanto grazie Cinzia beh guarda ringraziamo questo signore che parla con la voce da uomo grazie Roby allora la seconda volta dice Adriana lo sognavo perché era abbronzatissimo e con i capelli più corti lo stesso non mi parlava io lo carezzavo sentivo sotto le mani tutte le grosse che aveva della psoriasi l'ho toccato davvero beh è lì vuol dire che si è fatto vedere come era realmente lui è un incontro Manuela dice ciao Susi mio figlio suicida mi è venuto in sogno subito nei due mesi successivi poi più nulla non potrà non vorrà no Manuela non è vero non potrà non vorrà non è vero l'ho spiegato prima quando non riusciamo a sognarli o quando non li sentiamo è perché siamo talmente addolorati e il dolore lo sentiamo non subito molti sognano i loro cari o li sentono vicini appena se ne sono andati in un mese o due e poi dopo si calma tutto perché il dolore si sente dopo ci rendiamo conto che sono andati dall'altra parte dopo un po' di tempo lui vuole e può venire da te probabilmente tu in questo momento non riesci a sentirlo perché il dolore è talmente forte che non riesci a lasciarlo andare a lasciare andare il dolore intendo e non tuo figlio vedrai che pian pianino riuscendo un po' a lavorare su te stessa a metabolizzare il dolore che è molto forte soprattutto quando ci sono dei suicidi di mezzo ci va di mezzo tutto avrei potuto fare mi sento in colpa perché non ho capito e dovevo proteggerlo tutte queste cose creano veramente un tunnel dentro di noi di conseguenza dobbiamo avere la pazienza che pian pianino si trasformi questa cosa però lui può e viene non ti preoccupare che i suicidi non sono condannati anzi sono aiutati sono anime volute e sono anime che hanno un amore infinito perciò fanno tanto e fanno molto di più di tanti altri perciò stai tranquilla che può e vuole venire da te vuole parlare con te grazie Carla, grazie a te buonasera, ciao Vera, ciao Clara brava Silvia, auguri Fernando Raffaella, non è ancora uscito Raffaella il libro, è in produzione appena ce l'ho poi l'ho posto, lo faccio vedere e vi dico dove lo trovate sicuramente su Amazon ma anche la casa editrice, penso che vada anche nelle librerie Mariella questa è la grandezza e la bellezza di Dio, scusi tu non sei l'esempio, ma no ma io sono una semplice pedina un po' una sfigata ma sono contenta, sono felice ti accorgi della loro comunicazione, mi nerva, pacca, lasciati andare, segui la tua anima, metti il roccio nella mente e tutto sarà più facile senti nella verità del tuo cuore, ti opereranno porta piena di fiducia, comincerai a vivere nel presente senza preoccuparti del domani allora, una cosa che mi sento di consigliare, il dolore non va accantonato e non chiudetelo, il dolore va affrontato e superato e metabolizzato grazie, mi dite che ore sono per favore, perché aspetta che guardo l'ora perché domattina alle 5 mi devo alzare che parto per Modena, domani è una giornata piena di contatti ci saranno tante anime che vengono a parlare ma Mirella dice, Susi quando ci ritroveremo lassù con i nostri figli li incontriamo con il loro corpo fisico oppure ci riconosceremo in un altro modo, no Mirella ci riconosciamo dall'amore, non c'è più il corpo fisico dall'altra parte ci riconosceremo dai ricordi che abbiamo, perché l'anima ha i ricordi di tutte le vite che abbiamo vissuto perciò ricorda ogni cosa, l'amore che abbiamo vissuto, le esperienze e ricordiamo, ci riconosciamo in quello la differenza che abbiamo di là, da quando siamo materiali, umani è che l'amore è uguale, abbiamo tutti, anche chi ci ha fatto del male in vita, anche a chi abbiamo fatto del male perché ognuno dà e riceve, perciò diventa una cosa all'unisono, è un amore incondizionato, non c'è giudizio, non c'è rabbia, non c'è nulla perciò non abbiamo i sentimenti che abbiamo in terra, perciò anche le persone che non conosciamo abbiamo comunque un amore bello nei loro confronti Susanna dice, è tantissimo che non sono i miei genitori, come mai? Susanna l'ho spiegato già due volte, ce la faccio più o più voce Mari De Marco dice, grazie anche io ho perso un figlio, mi spiace Mari Vera dice, è difficile comprendere come mia figlia ha deciso prima che ha 29 anni l'avete deciso insieme Vera, ma non è una cosa brutta, cioè nel senso è come se tu, come se aveste deciso la scuola che dovete fare come se tu, quando sei terrena, decidi con tua figlia e vi consigliate sulla scuola che deve fare è così, sembra strano, ma è così avete deciso insieme, non ha deciso lei, si decide insieme quello che facciamo anche a me sembra impossibile a volte di dire come mai ho deciso che questa persona mi abbia fatto così tanto male, che mi sia lasciata fare tanto male, che mi sia stata comunque abbandonata perché? Perché l'abbiamo deciso, mi ha fatto imparare tanto però mi ha fatto amare nel vero modo e mi ha fatto imparare tanto Cristina dice, la morte è prestabilita, hai detto addirittura il giorno, quindi così non possiamo fare nulla, sì assolutamente sì, sul giorno della nascita e della morte non possiamo fare niente ciao Anna Maria Cristina dice, scusi intendevo che ormai sarei diventato grande, c'è un ragazzo l'ho perso che era piccolissimo può essere, poi io non so quanto crescono mi è capitato che a volte si facessero vedere per dire se questo aborto era successo due anni fa vedevi il bambino di due anni perciò è per quello che dico che crescono perché mi è capitato in diversi contatti che succedesse sicuramente se è il tuo ragazzo tu parli di come se fosse diventato grande Patricia dice quando verrai domani sono a Modena ma ho già strapieno da domattina alle 8, domani sera alle 8 non ho neanche forse la pausa a mezzogiorno buonasera Alexandra non esiste la morte, si ritorna alla vita vera e comincia il ciclo evolutivo nessuno muore, tutti vivi brava Mariella siamo tutti vivi Adriana dice anch'io sento la voce di un uomo e perché poi è registrata, no? perciò si sentono attraverso il registratore Mariella dice la parte divina che si ma sarà qualcuno, è un'entità Mariella non è la parte divina ci sarà qualcuno, qualche ragazzo, qualche uomo Alexandra dice come faccio a comunicare con loro da sola e parlagli gli parli loro la voce da tolce la sentono e tu devi cercare di capire i segnali che ti arrivano allora non chiedevo contatti la mia risoluzione ma sì sì ma ho capito Mary l'ho capito no ma non l'ho detto per te avevo capito che chiedevi così sicuramente lo sapete che quando facciamo le dirette c'è sempre qualcun altro c'è sempre non siamo mai soli Vera dice la chiesa ha sempre detto di non disturbare i defunti secondo me è una fallita assolutamente sì adesso però sta cambiando dopo tantissimi anni che era contrario adesso invece dice che è giusto parlare con i defunti perché si cambia così ma io nella chiesa non ci credo non ci ho mai creduto questo per me è un mezzo materiale di potere perciò non ci credo poi c'è anche qualche prete che mi piace cioè me l'hanno raccontato io sinceramente non ne ho conosciuti però mi hanno parlato anche di qualche sacerdote che fa il suo dovere nel modo giusto Daniela dice descrivi l'oltre se puoi grazie allora guarda a me è capitato a volte di vedere dei boschi con degli alberi altissimi non vedevo la punta quando ero di là a volte andavo con mio padre dall'altra parte a volte ho visto tutto bianco di una luce che non esiste sulla terra e c'erano le sagome di queste persone c'erano tante sagome bianche di queste persone sempre con questo vestito la giacca e i pantaloni ma tutto bianco non vedevi non erano definiti erano queste sagome è la sensazione che ti dà l'altra parte che è veramente speciale a volte mi è capitato quando ero piccolina che andavo in questa giostra non era una giostra colorata c'era la sagoma della giostra bianca e io salivo su questa giosta con mio padre non lo so esattamente io cosa c'è dall'altra parte so quello che fanno quello sì dicono proprio che aiutano aiutano noi accolgono chi va dall'altra parte ci si confronta si capisce se si è fatto del male se si è fatto del bene e si aiutano le persone terrene siamo comunque sempre noi che andiamo e torniamo l'exano dice vero la mamma ha visto mio padre prima di andare nell'aldilà sì sì li vedono perché l'anima è già pronta l'anima vede già dove deve andare lo sa già l'anima nel momento in cui il corpo deve lasciare l'anima ricorda tutto di conseguenza è già dall'altra parte è già è già a casa anche se il corpo dà o gli ultimi respiri o ancora qualche ora di vita Caterina dice loro vengono a trovarci sono sempre qui a trovarci ci sono sempre che sia uno l'altro ci sono sempre Laura dice carasù sono tanto triste quando sento tutta la cattiveria e malvagità che c'è nel mondo perché ci sono bambini donne anziane che sono maltrattate e violentate tante volte mi chiedo come mai Dio non reagisce e dai dare la colpa a Dio è colpa dell'essere umano è colpa dell'essere umano Dio non ha colpe è colpa dell'essere umano siamo noi che siamo cattivi ma perché non guardate però tutte le persone belle che ci sono quante volte essendo lo dico anch'io c'è cattiveria e violenza sugli animali violenza su tutto però io guardo sempre tutto il bello che ho perché io ho conosciuto delle persone bellissime straordinarie ho conosciuto anche lo stronzo per l'amor di Dio però io non ci faccio caso è un problema suo cerchiamo di combattere la violenza e la cattiveria con la nostra luce se noi pensiamo sempre al brutto non ci trasformeremo mai in luce non manderemo mai la luce che abbiamo l'energia buona chiamiamola così non luce l'energia buona che abbiamo dentro di noi non la manderemo mai noi guardiamo sempre abbiamo l'abitudine proprio tutti gli esseri umani di guardare il brutto della vita cerchiamo di guardare anche le cose belle c'è tanta gente che salva gli animali c'è tanta gente che adotta dei bambini c'è gente che va in Africa ad aiutare i bambini che sono là a portare da mangiare c'è gente che va dappertutto per poter salvare sia gli animali che le persone c'è gente che lo fa anche da qua cerchiamo di guardare il bello mai perché ci sono delle violenze ci sono delle brutture c'è cattiveria per l'amor di Dio ma c'è anche tanta bontà al mondo non ci facciamo mai caso c'è tanta gente buona c'è tanta gente bella c'è tanta gente che ha voglia di vivere c'è tanta gente che ha voglia di comunicare di fare qualcosa per gli altri di poter stare insieme di poter ridere di poter fare delle cose insieme ce n'è tanta di gente così ma noi guardiamo sempre il peggio cerchiamo di guardare e non diamo la colpa a Dio la colpa è la nostra ciao Anna ciao tesoro ciao sì la gratitudine è vero Anna hai perfettamente ragione allora Francesca dice Susis chi di qua è pieno di paure se le porta anche dall'altra no di là non ci portiamo ci portiamo dietro l'esperienza è il ricordo di quello che abbiamo fatto il desiderio anche di poter cambiare alcune cose Luciana dice è vero che sembra che ti cambia la voce ma non è una voce da uomo è un timbre diverso e ci abbiamo tanta gente qua ciao Elisabeth ciao Susi avevo una domanda ma le persone che ci hanno trattato male in questa vita quando vanno di là si rendono conto di averci trattato male spero di sì purtroppo io ho molta rabbia repressa aspetta eh per colpa di persone cattive non so come liberarmene allora Elisabeth io la conosco questa ragazza allora comincia a pensare in un altro modo comincia a dire non le persone che mi hanno trattato male che mi hanno fatto della cattiveria comincia a dire sì ho ricevuto delle cattiverie ma io me le sono lasciate fare comincia a prenderti la responsabilità di cose che sono successe l'ho fatto anch'io e credimi si sta molto meglio si capiscono tante cose certo di là si capisce tutto però il pensiero è diverso non possiamo fare un paragone con la mente umana è tutto un altro modo di vedere le cose perciò comincia a dire mi sono lasciata fare del male buonasera Anna Vera dice a Roma non vieni mai sì sono venuta diverse volte sono ad Anzio anche sabato sono venuta anche a Bologna Alexandra Paola mi dice ma vaffanculo grazie Paola sei molto carina e gentile ti ringrazio sei proprio educata e gentile Roberta dice Susi quando torni a Manciano grazie dov'è Manciano Roberta che non mi ricordo Mariella dice grazie di cuore Susi i tuoi consigli sono preziosi amore vince sempre buonanotte a tutti ti aspettiamo presto ci collegheremo il 23 ottobre perfetto ah sei sei con Michele Mariella ci vediamo là per noi in un mondo materiale è difficilissimo comprendere lasciatevi avere presto lasciare sì è vero Vera è difficile dobbiamo imparare ci vogliono tanti anni ci vuole tanto tempo è difficile non c'è niente di facile sulla terra grazie per le belle parole Patrice dice mi dispiace uffa non lo sapevo ci terrei tanto ad esserci casomai la prossima volta siamo in zona grazie di cuore certo Rosario dice ma se non tu guarda ti manda segnali da dieci giorni dalla morte qualche mese dopo vuol dire che è rimasto vicino al piano terreno no 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 vanno via subito quando capiamo i segnali che ci danno è perché siamo noi che siamo più aperti o più chiusi i segnali arrivano sempre dipende sempre da noi sentirli o capirli dipende sempre solo da noi il loro comportamento è sempre lo stesso sia da un minuto che vanno di là o da 15 giorni Drusilla ciao Susi ti abbraccio oh Dio mi sono girata cominciano a fare gli scherzetti non era ancora successo Gabriella ciao Susi grazie Drusilla ti voglio bene Gabriella dice ciao Susi quando è morta la mia mamma non sono mai riuscita ad avvertire la tua presenza sono scoraggiata cerca di non scoraggiarti Gabriella di essere un pochino più serena e di ascoltare il silenzio il silenzio dice tante cose il loro silenzio dice tanto ciao Sabrina Mariella Mariella dice dobbiamo dimostrare gratitudine a Dio una fede sentita a lui che ci consente questi scambi d'amore allora Mari grazie Mari grazie ti ringrazio grazie Rachele hai capito Eli i tuoi amicetti come stanno Elisabeth Caterina grazie Susi grazie a voi no Caterina non vengo a Trieste Enrico dice l'utente Paola Montefusco è stata da me bannata per la sua volgarità vabbè succede Enrico sai le persone che non capiscono reagiscono corrabbi a me fanno ridere ma non è un problema non ti preoccupare lo sai che non ci faccio caso Roberta dice vicino a Grosseto si trova a Manciano ci sei stata in primavera ma non avevi posto in agroturismo ah sì a Grosseto è vero Roby è vero eh ho sentito la Camilla l'altra sera ma dovevo andare poi non sono andato non ho potuto grazie a te Raffaella grazie a voi dovrebbero essere già le dieci e mezza giusto? oh sono già le dieci e quaranta non vi annoio più di tanto Laura io non ho detto che quando ci fanno del male è colpa nostra io ho detto un'altra cosa ho detto che quando ci succede qualcosa di male prendiamoci le nostre responsabilità se tu mi dai uno schiaffo se io dico se ti dico prendiamo mezzo quella lì che prima mi ha mandato a fanculo se io senza motivo perché non c'è motivo per mandare a fanculo una persona in questo modo tu mi dai uno schiaffo la colpa è la mia perché ti ho dato ti ho mandato a quel paese la colpa è la tua perché hai reagito in modo violento si è il contrario comunque hai capito cosa voglio dire perciò le responsabilità sono sempre di tutti e due non è colpa nostra non è colpa di nessuno prendiamoci le responsabilità di quello che succede se io guarda vi faccio un esempio molto banale vi parlo di anni fa adesso queste cose non le faccio più le ho capite però anni fa io che amo in un modo spropositato come tutte le mamme il proprio figlio quando avevo qualcosa che non volevo che sapesse che non mi andava bene o che mi stava facendo soffrire o qualcosa che mi diceva che mi dava fastidio ma non volevo rire che me l'ero presa mi distaccavo da lui e pensavo dentro di me mio figlio non mi vuole più bene mi allontana non era lui che mi allontanava ero io che mi allontanavo da lui perché mi chiudevo e davo la colpa a lui del mio comportamento quando l'ho capito il mio comportamento era libero e le cose si parla si dicono e non era lui che si allontanava ero io che lo allontanavo in questo senso dico prenderci le nostre responsabilità vi ho fatto un esempio personale perché qualcuno vuole farci nella tua gatta sì Elisabeth il mio amore la drusilla che persona straordinaria Elisabeth sì stanno bene sono contenta Elisabeth ciao Laura un abbraccio a te i tuoi cagnolini alla cagnolina che è andata in cielo a tutti Laura è una persona no ho sbagliato ho sbagliato Laura però sei una persona straordinaria anche tu Laura ho sbagliato Laura e io con i nomi ragazzi mi sbaglio pensavo un'altra persona Laura Peluso di Salerno una persona straordinaria però anche Laura Meluso una persona straordinaria Laura dice Susi hai mai provato a contattare un'anima di cui non avevi la certezza che era morta veramente tipo di una persona sparita sì sì mi è capitato mi è capitato che mi chiamassero dei genitori o delle persone sì però se è viva non si fa vedere la contatto se è di là grazie Anna arrivederci grazie a voi grazie a tutti allora rispondo a Cinzia poi vi saluto eh cara Susi mi dice che abbiamo da imparare anche dalle persone che ci hanno fatto del male puoi spiegarmi che senso allora Cinzia l'ho appena detto io non ho detto impariamo dalla sofferenza non da chi ci ha fatto soffrire mettiti in conto che probabilmente c'è un allontanamento adesso tu mi dici per la sorella io ho detto di prendersi che per me ha funzionato a imparare mi hanno insegnato a prendermi le mie responsabilità non è sempre colpa degli altri anche se noi abbiamo un punto di vista che è perché non non veniamo capiti perché non viene capito quello che diciamo perché vogliamo una cosa ma non la diciamo ci sono tante piccole particolarità eh si impara sicuramente dal male che ci viene dalla sofferenza che che proviamo dalle prove che proviamo sicuramente ma prendiamoci le responsabilità quando qualcosa non va questo intendevo dire e questo dobbiamo fare le cose si trasformano e tutto va meglio ciao ragazzi vado a letto ciao Maria Rosa ciao ragazzi un bacione a tutti vi saluto grazie della compagnia scusate se sono andata oltre se vi ho annoiato ma a parlare poi dopo ci va avanti e mi sono persa con l'orario grazie a tutti voi grazie a Anna grazie a Enrico vi mando un bacio grande ciao 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 notte grazie a tutti